Cari amiche e cari amici di Merpiu, questo piccolo video è per cercare di porci 6 domande e 6 risposte sul nuovo trattato di liberalizzazione commerciale tra gli Stati Uniti e l'Europa che in molti si affannano a assicurare che non è ripartito ma che è chiaramente ripartito. Noi della campagna Stop TTIP Italia abbiamo pubblicato un dossier con 6 domande e 6 risposte che volevo sintetizzare con voi a voce, invitandovi comunque a visitare il nostro sito per poi nel caso approfondire con tutti i link e tutti i documenti ufficiali se veramente il TTIP, come alcuni dicono un po' per convenienza, è veramente morto oppure no. In realtà il trattato non è morto per niente, non è morto per due motivi. Il primo perché questa settimana i negoziatori statunitensi e europei si vedono proprio per cominciare a ragionare sui due pilastri del trattato. Che cosa comportano questi due impegni attribuiti dai governi dell'Unione compreso purtroppo il governo italiano nonostante gli impegni. Il trattato è strutturato in due pilastri, il primo parlerà di tazzi e il secondo parlerà di regole. Pensate che la Commissione europea nel briefing informale della scorsa settimana con i giornalisti ha definito questo secondo pilastro finalmente di nuovo col suo vero nome, ossia cooperazione regolatoria. Il classico, il vecchio frullatore delle regole che avevamo fortemente contestato con il TTIP e quindi abbandonando un po' tutti quei tentativi di far finta che non stessimo parlando della stessa cosa finalmente ci dicono e ammettono che mentre nella parte dei tazzi che sarà molto difficile da riavviare anche perché come sapete in queste ore Trump sta continuando a minacciare i tazzi contro la Cina che comunque indirettamente ci colpiscono con conseguenze disastrose per le borse, per i mercati in realtà sull'altro pilastro è quello sul quale vogliono procedere molto speditamente si occuperanno essenzialmente di regole. Prima appunto le chiamavano valutazione della conformità dei prodotti in realtà parliamo di cooperazione regolatoria. La terza domanda che ci siamo posti in questo piccolo dossier è quali sono le lobby che hanno aiutato a riavviare a luglio scorso e poi concretamente questa settimana il nuovo, il Rititip, il TTIP Zombie. Le stesse di prima, se voi andate sempre sul nostro sito c'è l'elenco con la scheda ufficiale fornita dalla Commissione Europea, troverete i nostri soliti amici di Business Europe poi c'è la Confindustria Europea, troverete tutti quanti, soprattutto i giganti del gas, i giganti dell'agricoltura meno del 10% degli incontri che ha fatto la Commissione per ristrutturare il TTIP sono stati fatti con la società civile, con associazioni ambientaliste, sindacati, comunque portatori di interessi diffusi perché ci dicono che il cibo e l'agricoltura non sono contenuti in questo TTIP e perché invece questo è falso? Allora, in realtà i governi europei hanno ottenuto su nostra pressione, pressione di tutte le associazioni le reti, le campagne nazionali, che nella parte dei tazzi, quindi dell'abbattimento delle barriere da rifare non si discutesse di agricoltura e di cibo, ma nella parte che riguarda la cooperazione regolatoria in realtà se ne discute è come e anzi i negoziatori americani ci hanno fatto sapere più volte prima, durante e dopo appunto il riavvio di questi negoziati che in realtà è proprio quello a cui loro puntano loro dicono in alcuni documenti riservati e anche nelle dichiarazioni che hanno fatto al congresso che in realtà noi siamo nascosti dietro di una pseudoscienza quando vogliamo rifiutare gli OGM quando pensiamo che dei pesticidi pericolosissimi come il glifosate ci facciano male alla salute e quindi non vogliamo che siano contenuti in livelli troppo elevati come residui nei cibi importati non vogliamo gli ormoni della crescita per l'accrescimento dei nostri allevamenti e quindi non vogliamo neanche che la loro carne le contenga loro dicono che tutte queste nostre posizioni sono antiscientifiche e che quindi dobbiamo trovare un luogo scientifico per discutere e questo secondo loro non sono le università, non sono le agenzie sanitarie ma sono sicuramente le commissioni bilaterali che il trattato andrà a costruire quinto quesito quale sarà l'impatto del nuovo TTIP sull'ambiente? Voi sapete che noi, i nostri paesi, si stanno impegnando dall'accordo di Parigi in poi che è volontario alla riduzione degli effetti climatici di cambiamenti climatici provocati dalle emissioni emissioni di gas clima alteranti e che purtroppo, i cui effetti purtroppo non sono soltanto degli effetti che ci spaventano dal punto di vista emotivo sono delle conseguenze economiche molto impegnative per le nostre economie molti milioni di euro tutti gli anni escono dall'erario nazionale perché devono andare a coprire gli stati di emergenza che vengono dichiarati soprattutto in campagna ma anche nelle aree industriali che di recente sono state sommerse più e più volte in realtà, che cosa ha detto la commissione? ha usato come argomento assolutamente a supporto dell'importanza e dell'utilità di questo riavvio del trattato il fatto che abbiamo aumentato di una percentuale pari circa al 112% le importazioni di soia dagli Stati Uniti anche senza la firma definitiva del nuovo trattato già solo con la minaccia e con il riavvio siamo a oltre il 120% di aumento dell'importazione di gas leguefatto dagli Stati Uniti dei quali siamo diventati in questi mesi i primi importatori come Europa a livello globale ed è veramente suggestivo perché mentre il Parlamento Europeo e il Parlamento Italiano ricevono una piccola creda con tutti gli onori e con tutte le attenzioni strappandosi le vesti per gli effetti climatici che le nostre scelte industriali le nostre scelte di consumo potrebbero avere in realtà noi continuiamo a scegliere la soia per produrre biodiesel una soia peraltro OGM che finisce anche nei mangimi dati ai nostri animali negli allevamenti non biologici peraltro il biodiesel come dimostra uno studio della stessa Commissione Europea lo trovate sul nostro sito il biodiesel tratto da soia è due volte anche più inquinante del vecchio diesel pensate un po' come siamo pensi e oltretutto il gas eliquefatto è siccome causa molto stesso nel processo di estrazione non soltanto un fortissimo inquinamento atmosferico ma anche inquinamento ambientale del terreno e dell'acqua ma anche un fortissimo inquinamento atmosferico per l'effetto dello spillover ossia del fatto che attraverso non tutto riesce ad essere canalizzato e portato a cambiare il suo stato nello stato liquido per poi essere trasportato ma queste fuoriuscite sarebbero negli Stati Uniti la principale causa di aumento delle emissioni questo in base ad alcuni studi recentemente pubblicati che potete trovare sempre sul nostro sito l'ultima domanda è quella cruciale cosa possiamo fare per non farci prendere in giro innanzitutto quello che dobbiamo fare è tenere gli occhi aperti su questi negoziati seguirli, continuare a seguirli perché non sarà facile il nuovo TTIP come il vecchio e come il CETA vuole darsi e c'è scritto nei mandati una struttura complessiva di piccole commissioni riservate quindi nei quali i nostri parlamenti non possono lavorare nel quale spicciare queste situazioni così complesse oltretutto tutto questo verrà fatto nel momento in cui il Parlamento europeo non c'è perché stiamo aspettando le nuove elezioni e la riedizione e la Commissione europea vuole chiudere tutto questo entro il primo novembre quindi la maggior parte delle operazioni avverrebbero proprio a camere chiuse quindi senza la possibilità che i nostri eletti possano fare delle domande, dei question time degli incontri con la Commissione e la Commissione invece con i portatori di interesse come anche le associazioni come la mia come la nostra campagna decidono loro quando parlare e su che cosa parlare se non vogliono rispondere non rispondono hanno il diritto di non rispondere appunto per la protezione dei nostri interessi commerciali questo chiaramente ci crea un grosso problema ci sarebbe una soluzione immediata che è quella della bocciatura del trattato di libero scambio tra l'Europa e il Canada e il CETA perché chiaramente sarebbe uno shock rispetto alle politiche commerciali europee se l'Italia che se lo sta tenendo in un cassetto nel Parlamento italiano come impegnatosi a fare le forze attualmente al governo lo tirassero fuori da quel cassetto e lo portassero nelle Camere al più presto per essere bocciato noi appunto riusciremo ad infilare un ostacolo importante in questa macchina infernale nelle prossime settimane nei prossimi mesi noi continueremo a chiedere questo al governo vi chiediamo di unirvi a noi sottoscrivendo la petizione contro gli arbitrati internazionali sottoscrivendo aderendo alla campagna seguendo la campagna e seguendo sul sito della campagna Stop TTIP Italia quali saranno le iniziative che noi metteremo in campo per difenderci da questa ennesima minaccia buon lavoro a tutti noi Grazie a tutti